La città ha messo in campo un livello tale di azione. La città ha messo in campo un livello tale di azione. La città ha impegnato forze dell'ordine, poliziotti municipali, controlli delle ASL, attività sul territorio, associazioni, riqualificazione del territorio. Vedete i lavori su Piazza Principe Umberto, su Porta Capuana, su Santa Caterina a Formello, su Via Carbonara, su Piazza Principe Umberto. La critica forte sulle politiche della sicurezza sarebbe ingiusto se me la pigliassi solo con Salvini. Salvini chiaramente non puoi che criticarlo per le cose che dice e che fa, ma è evidente che se oggi la coperta è corta, che le volanti della Polizia e dei Carabinieri non sono in grado di controllare il territorio come vorremmo e quindi impedire che delle persone la mattina presto facciano delle attività illegali o piuttosto la sera tardi, a chi dobbiamo chiedere, come dire, mezzi e risorse in un Paese in cui per legge e per Costituzione si affida la sicurezza allo Stato. Negli Stati Uniti hanno fatto un'altra scelta. Negli Stati Uniti il responsabile della sicurezza è il Sindaco. Se l'Italia vuole cambiare, io l'ho detto più volte anche ai mezzi di comunicazione, io mi caricherei se mi dessero le leggi per essere il responsabile della sicurezza in città con mezzi, risorse, senza vincoli normativi e senza gabbie finanziarie, io ne sarei felicissimo perché sicuramente avendo i mezzi, la disponibilità normativa e finanziaria magari potrei decidere di fare delle azioni che il Governo non fa. Ma fin quando ci sono queste leggi nel Paese la sicurezza, la prevenzione e l'individuazione responsabile appartiene alle forze dell'ordine e alla magistratura. La vera novità di Napoli è che voi parlate con un Sindaco che non si è mai permesso, pur potendolo fare, di scaricare sugli altri questa cosa. E ogni giorno, compreso stamattina, che siamo stati in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza V per due ore, abbiamo discusso tutti su come meglio poter operare in attesa di un Governo che verrà. Perché questo è il tema. Sinora noi non abbiamo avuto le risposte che questa città e le altre città meritano. Se noi non possiamo scorrere le graduatorie della Polizia Municipale, che la Polizia Municipale sarebbe utilissima per alcune attività di controllo del territorio, ma noi come possiamo fare se noi contiamo i pensionamenti e non contiamo le assunzioni perché il Governo non ci consente di assumere, perché non abbiamo le risorse economiche per le leggi clamorose che sono state fatte, per i debiti storici? Così come il Governo scegliesse se è più importante, come ha ritenuto il Governo che ha preceduto questo Governo, di salvare con 13 miliardi le banche del Veneto, oppure magari è più utile in questo momento storico finalmente cominciare a guardare ai bisogni dei cittadini, ai servizi, ai territori. Non significa solo sicurezza. Significa sicurezza, significa decoro, significa qualità della vita, significa trasporti, significa tutto. Quindi ecco siccome mi voglio porre in un'ottica di confronto con questo Governo, di critica quando è necessario perché abbiamo la nostra autonomia di pensiero politica, ma di grande cooperazione istituzionale. Quindi basta adesso il terreno della divisione, perché questo Governo sta facendo un'operazione pericolosissima, sta riportando il Paese su una divisione fondata sull'odio. E qua sai quando cominci e non sai dove vai a finire. Questo è il tema che devo dire a vedrà, io mi sento di lanciarla questa preoccupazione. Invece sediamoci, confrontiamoci, chiamate le persone che stanno ogni giorno in prima linea sulla frontiera, chiedeteci di che cosa secondo noi hanno bisogno i territori e poi scegliete liberamente, autonomamente. Questo pure noi diciamo un cumulo di corbellerie. Però così non si può andare avanti, perché così si rischia di portare il Paese non verso la coesione nella valorizzazione delle differenze, ma un Paese verso una frattura sociale, verso l'odio e verso la guerra tra poveri o nell'individuare alcune persone, alcune categorie sociali in violazione della Costituzione come i nemici dell'Italia. È veramente una cosa che non si può sentire.